Jump Set Mark, 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 Jump Set Mark. Mi chiamo Luca Lucenti, ho otto anni e vengo in provincia di Montefiorino e il mio insegnante è Mauro Gerardi. Sono Daniele Vitale, ho tredici anni e vengo da Lecco e il mio maestro è Matteo Milesi. Mi chiamo Marcello Repola, ho 17 anni e vengo da Imperia, studio al Conservatorio Fille Peri di Reggio Emilia. Sono Giacomo Giarola, ho 20 anni, sono di Verona e il mio maestro è Enrici Turco. Mi chiamo Filippo Galli, ho 23 anni, vengo da Barga e il mio insegnante è Luca Giumetti.